Oggi nella nostra scuola, al liceo Quintiliano, celebriamo la seconda giornata del progetto nazionale Libri Amoci. Vuole essere un momento bello per gustare la lettura attraverso la voce di tanti protagonisti, che sono scrittori, professionisti, ma anche lettori, nostri alunni e alunni delle scuole medie che sono venuti a trovarci. Quindi è un momento bello, abbiamo definito una maratona, quindi una lettura continua di brani proprio per allenare al gusto della lettura e questa è una bella iniziativa che si inserisce all'interno della nostra scuola e anche del territorio perché c'è stata una buona risposta da parte delle scuole coinvolte e quindi è un momento bello anche per la città e per il quartiere. Musica 70, 80 e notizie 24 ore su 24